Per il nostro incontro in piazza affari il portafoglio sta andando molto bene qui c'è un rendimento base anno di quasi 20% che non è il 25% che ci piace ma insomma con gli indici di borsa come sono andate il Nasdaq ha perso il 30% nel momento peggiore Milano è andato leggermente meglio, un po' meglio però insomma hanno perso tutte quante queste borse noi abbiamo guadagnato il 20% quello puntuale di su 306 giorni è stato un rendimento del 17% se avessimo comparato il DAO anziché i titoli perderemmo quasi 7% quindi va bene, è un portafoglio che sta dando delle grosse soddisfazioni il titolo che aggiungiamo oggi in portafoglia